Avrebbero rapinato il titolare di un caseificio di Bari colpendolo con calci e pugni e poi nella fuga avrebbero speronato l'auto della polizia. Due fratelli baresi, entrambi pregiudicati di 36 e 32 anni, sono stati arrestati e portati in carcere. È accaduto nel quartiere San Pasquale. I due, sotto la minaccia di una pistola che però non hanno mai mostrato, hanno aggredito con inaudita violenza, dicono gli investigatori, il titolare dell'attività 59enne di Gravina in Puglia colpendolo ripetutamente. Poi lo hanno privato del telefono cellulare in modo che non chiedesse aiuto e dopo averlo bloccato, non trovando denaro in cassa, si sono accontentati di alcuni prosciutti e altri prodotti in vendita per poi darsi alla fuga. Dopo aver aggredito nuovamente la vittima, la sala operativa della Questura ha diramato immediatamente alle volanti in perlustrazione sul territorio le indicazioni circa la fuga dei due. L'auto, con i malfattori a bordo, è stata intercettata dopo pochi minuti su via Caldarola, in zona Iapigia. Dopo l'inseguimento, nonostante i ripetuti speronamenti da parte dei malviventi, sia la volante in servizio che una vettura in sosta, i poliziotti sono riusciti a bloccare l'auto, arrestando i due rapinatori. La vittima, che è stata trasportata al policlinico, ha riportato contusione al volto e un trauma facciale, giudicati guaribili in una settimana.